Salve a tutti amici benvenuti in questo nuovo video, io sono Salupimpos e oggi torniamo su Minecraft Pocket Edition L'altra volta abbiamo fatto questo bellissimo porto con le barchette, con la mia mucca Carolina che mi guarda in lontananza sopra la mia barca E oggi come avevo anticipato faremo un bellissimo faro, un faro per le barche, perchè non c'è porto senza un faro che fa da guida alle barche Quindi ho recuperato un po' di cose, spero mi bastino e questa dunque è la mia idea Fare una colonna di 3x3 dove al centro ci andrà una bellissima scala con la quale salire in cima alla nostra bellissima torre Perchè ovviamente lì ci metteremo la cosa alluminita e qua per fare luce ovviamente, è un faro ovviamente deve fare luce Quindi iniziamo subito, ovviamente le scalette non devono mancare perchè qua cadiamo e ci facciamo un gran male Perchè l'acqua giustamente io l'ho messa più avanti, quindi non posso nemmeno saltare, bellissimo Quindi cominciamo a costruire, cominciamo a costruire piano piano e senza cadere perchè qua perdiamo il mondo Se cadiamo veramente perdiamo il mondo Allora, lasciamo 2 per poter entrare ovviamente, altrimenti vogliamo per entrare E quindi cominciamo a fare questo lavoro qua, saliamo e saliamo E ovviamente dobbiamo mettere pure le scale, giusto? No, poi cominciamo a scala, scala, scala Non ci dimentichiamo niente perchè qua è un po' complicato per scendere No, tizio qua poi non possiamo scendere, perfetto E continuiamo così praticamente fino a raggiungere l'altezza simile a quella Mi sembra che erano 60 blocchi e qualcosa Quindi, allora, il lavoro diciamo che c'è Ma devo dire che il risultato finale renderà tantissimo Perchè non sarà un'unica colonna ma faremo anche un piccolo piazzale Dove mettere il nostro lettino che me lo sto portando appresso Faremo un lettino lì sopra così possiamo anche dormire nella nostra casetta sopra il faro Ragazzi, fantastico, no, questo no qua Fantastico, faremo praticamente un piccolo salottino nel faro Ragazzi, verrà qualcosa di eccezionale, veramente Veramente non vedo l'ora di provarlo, di finirlo Questa costruzione è comunque abbastanza semplice Perchè non dobbiamo fare altro che piazzare i blocchi E continuare a salire Possibilmente senza fracassarci le gambe lì sotto Perchè via via ovviamente diventerà sempre più alto Ma non mi dire, salvo Pimpos, non mi dire Non mi dire che diventerà sempre più alto Io qua c'ho le vertigini già Ma mai, mai vertigini come quando abbiamo fatto la scritta dei mille iscritti Veramente, quella sì che è stata veramente fantastica Se vi siete persi il video della creazione di quella scritta Vi rimando a guardarlo perchè è veramente qualcosa di fighissimo Quindi nel frattempo qua dobbiamo farci un bel po' di lavoro Vai Ciao mucca Carolina Quella mi guarda dalla sotto Dice ma che cacchio stai a fa' qua Scendi che è pericoloso Scendi Stai attento tizio che qua no è pericoloso Ma di più Di più è pericoloso tizio Qua ti rompi Ciao mucca Ciao guardate che panorama Ancora siamo bassi, bassissimi Ancora siamo troppo bassi per il panorama Dobbiamo salire, salire, salire Dobbiamo salire Salire Tizio E metti sti cacchio di pietre Salire, salire Voglio salire Salire, 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 salire Mettiamo le scalette ovviamente Che qua non dobbiamo rimanere senza scalette Altrimenti possiamo volare Via, via Mattoncino, mattoncino, mattoncino Ancora non so di preciso dove mettere la pietra luminosa E soprattutto a che altezza fare il basamento A che altezza lo faremo il basamento? Di sicuro non adesso perché ancora siamo bassi Ma a che altezza lo faremo? Non lo so Quasi quasi lo farò tipo ad altezza di quei Ma qua ancora c'è un bordello Ma mi basta sta pietra? Ma qua Così oltre alla scritta Abbiamo anche come punto di riferimento Questa bellissima toro Questo faro Nel caso in cui facciamo le spedizioni E quindi ci viene più facile orientarci Perché ovviamente sto coso si vedrà Da 8 km di distanza Ovviamente Anche perché è più spessa pure della torre Quella che abbiamo fatto all'inizio del gioco Ovviamente Quindi essendo da 3 blocchi per 3 Ovviamente è molto più spessa Quindi è più visibile La volevo fare dall'altro lato Ma siccome c'era l'albero lì Quell'albero lì mi dava fastidio E quindi niente Ho preferito farla da questa parte Che tra l'altro Questa è una bellissima isola Quindi ci possiamo fare veramente tante costruzioni Non so che cosa Ma quindi la colonizzeremo ragazzi Non so che cosa faremo Ma la colonizzeremo Quindi ci espandiamo un po' Nei territori limitrofi E andiamo un po' Ad espandere la nostra mappa Che è già comunque piuttosto pesante La mia mappa di Minecraft Perché non so perché Ma ha raggiunto i 100 rotti megabyte E sono tanti per una mappa Mettiamo qua Mettiamo qua Mettiamo qua Che bella la luna Che bella Che romantico questo posto Questo faro Ragazzi guarda Portateci la vostra ragazza Fatela O la fate Oppure aspettate il download della mappa Anzi effettivamente potrei anche mettervelo Che bello però costruire al chiero di luna Fantastico Lì c'è tutta la mia coltivazione Illuminatissima Fantastica Fantastica la mia casa La mia piscina Da lì si vede Fantastica Fantastica Bellissima Bellissima Dai continuiamo Costruiamo Costruiamo Il nostro faretto Che guiderà Le nostre navine Che bella E no E no Cacchio No Questo qua No tizio Ti prego Non sprechiamo le cose Che le abbiamo già contate Avanti dai Concentriamoci Forza Che stiamo lavorando Stiamo Che stiamo facendo ballare le bambole Cioè mi sembra più facile Per lo da costruire Invece qua il tempo ci vuole Porcaccia la pupazza Il tempo ci vuole Già già mi stanno venendo le vertigini Ragazzi ora si che mi stanno venendo le vertigini Ora mi stanno venendo Perché siamo molto alti Infatti siamo presenti alle stelle Cioè guardi Vediamo le stelle qua Ah siamo presenti Abbiamo raggiunto l'altezza Quasi Quasi abbiamo raggiunto l'altezza Dove faremo il nostro ripiano Dove ci metteremo le finestre Ci metteremo il lettino Ci metteremo tutto No Stavo volando Stavo volando Ti ammazzo tizio Appena tu voli da qua Non lo so che cosa ti faccio tizio Stai attento Ok ci siamo qua Come altezza Ancora Ok direi che può bastare Sta sorgendo di nuovo il sole Quindi adesso qui In questa precisa postazione Guardate qua l'arena di Clash Royale È là sotto In questa precisa postazione Andremo ad espandere questo punto Quindi Attenzione Attivare No quello là no Ok Qui 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 Facciamo praticamente più grande Lo facciamo più grande Eh ancora più grande Sì Ancora più grande In tutto questo ancora non abbiamo messo La luce Un faro senza luce Bellissimo In tutto questo ancora niente luce Di qua Chiudiamo qua Chiudiamo qua Chiudiamo qua Chiudiamo qua E chiudiamo Basta Abbiamo finito Basta così Adesso come facciamo Adesso come facciamo Allora innanzitutto mettiamo un pilastro Ecco Possiamo fare direttamente il pilastro di luce Vediamo Due pilastri di luce Così Vediamo che cosa ne esce fuori Due così Perfetto Anche di qua Due così Poi Tizio cammino Due di qua E va bene così Poi rimangono Uno Due Tre Quattro Cinque Quindi Uno Due E il tre Qua lo possiamo fare Con un'altra luce Un'altra luce Anche qua Altra colonna di luce E al centro E al centro qua Un'altra colonna Di luce E' indovinato un po' Al centro qua Un'altra colonna di luce Fantastico Bellissimo Ora Chiudiamo tutto Con Con il vetro Ovviamente Chiudiamo qua Chiudiamo qua Ragazzi Sta avvenendo Veramente bellissimo Non me l'aspettavo Veniva così Ora dobbiamo fare Un altro po' di altezza Ragazzi Non abbiamo finito Vi pare che abbiamo finito No Questa è la mia stanza Praticamente Dove dormirei Dove dormirò Dove dormo Quindi Adesso Alziamo Dobbiamo alzare un altro pochino E qua E qua Il lettino Me lo piazzo qua Fantastico Qua Lettino Metti il lettino Dizio Lettino Perfetto Dove dormo io per i fatti miei E posso guardare il panorama Bellissimo Oh Adesso dobbiamo fare Il tetto Praticamente Il tetto Come facciamo il tetto Ovviamente Prima dobbiamo alzare Dobbiamo salire Saliamo prima Prima saliamo Saliamo qua E saliamo qua Perfetto Qua ci mettiamo Il nostro tetto Qua Tutto coperto Ovviamente Altrimenti Mi entra tutto Tutto coperto E poi ci mettiamo Il resto della Glovestone Così viene bello illuminato Il mio faro E bah Finito 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 Attento a non cadere Chiudiamo qua Ovviamente E lasciamo ovviamente Un buchetto Dove io poter Poter rientrare Giustamente Come rientro poi Ok Fantastico Poi questo buco Lo chiudiamo Qua ovviamente Non ci andremo Mettiamo Un pilastro Di Di Glovestone Così Centralmente Ovviamente Dobbiamo pure salire Così Per lungo Proprio come le torri Così Zact 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 Abbiamo finito La Glovestone Ma credo che La cosa Sia Visibilissima Direi che La nostra torre Aspetta Io come scendola da qua Aspetta Non posso scendere Dove scendo Buttiamoci Non credo che qua muoio No Ah ti spacchi un po' le gambe Ma non moriamo Perfetto Scendiamo Rientriamo nel nostro coso Qui Rompiamo qua E questa sarà La mia casa Personale In cima Al faro Ragazzi Bellissima Quindi adesso Non mi rimane Che scendere E andarla Quindi a vedere Da sotto Che ecco Maria che profondo Fiii Scaliamo tutti Qua è buio però Con un po' di luce Le la potremmo mettere Tutto a buio Il mio faro Al buio Fantastico Fantastico Stiamo arrivando Stiamo arrivando Vai che abbiamo Toccato terra Bellissimo Ovviamente Qua è l'entrata Casomai ci possiamo Mettere anche una torre Guardate che cosa C'è qui Effettivamente Possiamo ogni tanto Possiamo tipo Fare un buco Così Illuminiamo La scalata Praticamente Ed è anche Più bella da vedere Perché Equivalgono A delle finestrelle E poi possiamo Anche Eventualmente Allargare Anche Il ripiano Dove abbiamo messo Il lettino Adesso aspettiamo La notte Vediamo se effettivamente Si vede Si vede brillare Sta cosa No? Si deve vedere Andiamo un po' Da questa parte Aspettiamo la notte Vediamo se si vede Nel frattempo Mi vado a fare Un bellissimo bagno In piscina Ragazzi Non ve l'avevo detto Ma ho aggiornato Il materiale Della piscina Praticamente Ho preso Il quarzo Nel nether E ho aggiornato Dunque I bordi della piscina Con il quarzo E adesso E adesso è una cosa Veramente Troppo spettacolare Guarda Come la volevo Io bianca Wow Braft Bellissima La mia piscina È diventata Veramente Completissima Perfetto Ragazzi Guardate come Brilla Bellissimo Il mio faro Bellissimo Allora Praticamente Io direi Di allargare Un po' Quella superficie Dove ho messo Il letto Quindi Farla un po' Più grande E mettere Più Glovestone Così da Essere Più luminosa Ed eventualmente Aggiungere Quelle finestrelle Nel condotto Dove si sal Così viene Più luminoso E più bello Da vedere Dall'esterno Va bene ragazzi Come al solito Se il video è piaciuto Asciate un bel like Vi ricordo di poter Seguirmi anche Solo per già Facebook Twitter Instagram Tutti i letti social In cui trovate il link In descrizione Iscrivetevi al canale Ci vediamo Al prossimo episodio Di Minecraft Pocket Edition Per oggi è tutto Al prossimo video Oggi giocaremo A Amateur Sergeant Regeneration E praticamente Un gioco In cui Svestiamo i panni Di un chirurgo Eh Pigliati Che devi rimanere vivo Tagliamo tutto Che cacchio Questo è dentro Il corpo suo